Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City, dati sempre preoccupanti in campagna, situazione critica anche nei comuni del Vesuviano. Servizio a pagamento delle strisce blu sospeso e aiuti per le famiglie in difficoltà sono le misure messe in campo in queste ore dall'amministrazione comunale di Tore del Greco. Intanto i cittadini alle telecamere di TV City continuano a chiedere i maggiori controlli delle forze dell'ordine. Spazio anche alla cronaca, sequestrate dalla Guardia di Finanza due tonnellate di sigarette di contrabbando, quattro persone, sono finite in manette. La speranza ci salva, è il messaggio del parroco della Basilica di Santa Croce, Don Giosuel Lombardo, in questo momento difficile che stiamo vivendo. Nella lunga intervista ai microfoni di TV City presentato anche il programma delle celebrazioni per la festa di San Vincenzo Romano. Covid e tecnologia, la pandemia ha cambiato la nostra vita ma ha cambiato anche le ricerche su Google. Covid e zona rossa sono le parole più cercate. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Continuano a salire i casi di contagio nel Vesuviano. Si complica un quadro della situazione già drammatico, con i sindaci costretti a introdurre misure ancora più restrittive. A Castellammare di Stabia il sindaco Cimmino ha annunciato l'adozione di ulteriori misure al fine di limitare la diffusione del contagio. La villa comunale aprirà da lunedì al venerdì dalle ore 5 alle ore 18, mentre durante il weekend rimarrà aperta soltanto dalle ore 5 alle ore 8 e 30. Cimitero aperto martedì, giovedì e domenica. Intanto nella giornata di ieri registrati 83 casi di positività nello Stabiese, di cui 19 sintomatici. Dato il preoccupante, certificato anche da un aumento della percentuale di positivi rispetto ai tamponi effettuati. 83 positivi su 543 tamponi lavorati, con la percentuale che sale al 15,2%. A Castellammare sale dunque a 1.190 il numero dei tuttora positivi. Desta preoccupazione la situazione relativa ai contagi a Torre del Greco. Nonostante i 66 guariti registrati nella giornata di ieri, sono 143 i casi di contagio certificati in 48 ore, a fronte di 370 tamponi. Nella giornata di ieri ha testato anche un decesso. Continua a mutuare quindi il numero di positivi. Sono 860 gli individui in isolamento domiciliare, a cui bisogna aggiungere i 16 positivi attualmente in regime ospedaliero. Aumenta il numero di casi anche nel comune di Bosco Reale, certificati tra le giornate di domenica e lunedì, 43 casi di positività e 5 guarigioni. Il computo degli attualmente positivi sale così a 317. Attestate a Torre Annunziata ben 90 guarigioni in 72 ore. In aumento comunque il numero dei positivi con 68 nuovi casi di contagio da Covid registrati nelle stesse ore. Nel comune Plontino sono 453 i cittadini attualmente positivi, di cui 12 ricoverati in ospedale. Campania da domenica in zona rossa. Lei cosa sta vedendo in questi giorni? C'è molta gente in giro, ci sono i controlli soprattutto? Ma controlli non tanto. Comunque spero che passi questo perché stanno aiutendo tante attività commerciali e quindi insomma sarà... insomma non moviremo per il Covid ma si muoverà di miseria e di fame insomma. Vedo tanti negozi chiusi, quelli aperti stanno in difficoltà. Insomma speriamo che finisca presto. Poche parole che sintetizzano il momento complesso che stiamo vivendo. Saracinesche abbassate, meno affluenza per le strade e negli occhi delle persone la paura e la preoccupazione di queste ore. Sentimenti condivisi non solo per l'emergenza sanitaria. I contagi sono in aumento e sono evidenti le difficoltà delle strutture sanitarie allo stremo, ma sono ore di grande apprezzione anche per le categorie penalizzate dalle chiusure. Non si muore solo di Covid, si muore anche di fame. Una voce unanime. Lei sta vedendo le persone che rispettano le misure di... Più o meno sì, più o meno sì, si rispetta tutti con la mascherina, sì sì sì. A Torre del Greco, i cittadini sembrano ormai avere consapevolezza del rischio di contagio, adottando comportamenti corretti, ma continuano a chiedere alle nostre telecamere maggiori controlli delle forze dell'ordine. Intanto partito in queste ore l'avviso pubblico del comune per voucher alimentari per le famiglie in difficoltà spendibili presso gli operatori della grande distribuzione che abbiano manifestato la volontà di aderire all'iniziativa. Sospeso anche il pagamento delle strisce blu fino al prossimo 29 novembre. Quattro responsabili tratti in arresto, un denunciato a piede libero e due tonnellate di sigarette di contrabbando sequestrate. Questo è il bilancio di una vasta operazione anticontrabbando portata a termine dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. In particolare le fiamme gialle del gruppo di Nola hanno effettuato un accesso presso un complesso di capannoni situati a Castelvorturno sorprendendo i contrabbandieri in fraganza di reato. In gente carico due tonnellate di sigarette marchio Winston aveva raggiunto il punto di stoccaggio a bordo di un auto articolato di una nota ditta di trasporti. Al fine di rendere maggiormente credibile l'ingegnosa copertura e destare il meno possibile l'attenzione delle forze di polizia, il soggetto che trasportava il prezioso carico si è preoccupato anche di indossare una tuta d'operaio della stessa ditta. Quando i finanzieri sono penetrati all'interno della struttura hanno sorpreso i contrabbandieri mentre caricavano le bionde che erano giunte a bordo del camion su due furgoni. Nella circostanza sono stati tratti in arresto quattro contrabbandieri, un 59enne pluri pregiudicato, due 31enne di Napoli incensurati, un 56enne di Napoli residente a Latina con precedenti per furto aggravato, sanzionati anche per aver violato le disposizioni nazionali e regionali anti-covid. Un quinto uomo, un 41enne napoletano residente a Castelvorturno con numerosi precedenti alle spalle, è stato denunciato a piede libero. L'operazione è frutto della costante attività di presidio economico del territorio, spesso sottovalutata del contrabbando di sigarette nell'economia illecita e la sua pericolosità per la salute causata dall'immissione sul mercato clandestino di prodotti oltremodo privi di ogni tipo di controllo. Si avvicina il 29 novembre, festa di San Vincenzo Romano. Nonostante il periodo di emergenza sanitaria, la Basilica di Santa Croce ha organizzato una serie di eventi che si concluderanno il giorno 29, prima domenica di avvento. Alle telecamere di TV City, il parroco della Basilica di Santa Croce, Don Giosuè Lombardo, che ha illustrato la programmazione degli eventi. Siamo limitati per quanto riguarda tutte le difficoltà di questo momento della pandemia, però non faremo mancare le celebrazioni in Basilica né la vicinanza alla nostra gente. E per questo motivo, tutte le sere della novena di San Vincenzo, a partire dal giovedì 20, venerdì 20, ma poi c'è anche il giovedì 19, tutte le sere su TV City, alle 20, avremo un momento di preghiera. Noi prenderemo il segnale sempre alle 19.45, così prima della preghiera potrà esserci sempre un momento di incontro, di catechesi, di riflessione e anche di programmazione. Già da giovedì prossimo avremo questi collegamenti in diretta. Giovedì, come sempre, alle 20, l'adorazione eucaristica con qualche scritto di San Vincenzo sull'Eucarestia. Venerdì sarà mandato il documentario su San Vincenzo, quello che preparammo proprio con TV City in previsione della celebrazione e della canonizzazione. Sabato sera alle 20 avremo la messa con i fanciulli e le famiglie e poi domenica sera concluderemo l'anno liturgico con l'adorazione e la benedizione eucaristica. Tutto questo lo dico sempre alle 20 su TV City e la pagina Facebook della Basilica. TV City permette di incontrare gli anziani, gli infermi che non sono forniti come i ragazzi e i giovani dei social e per cui ho visto che TV City arriva in tante famiglie e ricevo ringraziamenti e benedizioni da tanto che io rimando anche a voi di TV City. La festa di San Vincenzo capita domenica 29 che è anche la prima domenica di avvento e quindi entreremo nella preparazione al Natale in compagnia del Santo. Oltre alle celebrazioni del mattino secondo l'orario festivo. Alle 10.30 avremo la presenza di una piccola rappresentanza del personale dell'Unitalsi. Domenica 29 alle 16 avremo una messa straordinaria e poi alle 17.30 anche con la presenza del sindaco che rappresenterà un po' tutta la città. La sera del 28 e la sera del 29 a fine preghiera intorno alle 21 in piazza noi accenderemo tanti lumi di cera ma io invito le famiglie ad illuminare dalle 21 alle 22 tutti i balconi e le finestre di tutte le zone della città dove ci sono i devoti di San Vincenzo dove ci sono quelli che sono attaccati alla nostra fede cristiana di illuminare balconi e finestre con un lume o con un cero. 28 sera e 29 sera così apriamo e chiudiamo la festa del nostro santo parroco. E proprio il 29 sera alle 20 cominceremo la preghiera serale della buonanotte a Maria apriremo quella sera in maniera solenne la celebrazione dell'Immacolata con la preparazione all'Immacolata con questa preghiera della buonanotte a Maria. La novità sarà questa che non sarà in presenza cioè la basilica resterà chiusa ci sarà soltanto una piccola rappresentanza di ragazzi giovani che serviranno all'altare che animeranno la liturgia animeranno il canto ma noi ci collegheremo 19 45 per un breve momento di catechesi e poi come sempre la preghiera della buonanotte a Maria. La speranza ci salva. Don Giosuè lancia un messaggio a tutta la popolazione per affrontare questo difficile momento. La riflessione, la preghiera di tutte le sere della buonanotte si ispirerà a una lettera di Papa Benedetto XVI sulla speranza, una lettera bellissima. Spe salvi, la speranza ci salva. Teniamoci forti e camminiamo in questi giorni con prudenza per quanto riguarda tutti i rapporti interpersonali. Come ci ha detto Papa Francesco in obbedienza alle disposizioni che ci vengono date che non restringono la nostra libertà ma ci rendono liberi di salvaguardare l'incolumità nostra e degli altri. Prudenza, obbedienza però sempre con un sorriso senza spegnere la gioia. Anche se il sorriso viene nascosto dalle nostre mascherine, sorridano gli occhi e sorrida la vita. Il coronavirus riflette i suoi effetti anche su Google, dove negli ultimi giorni si è registrato un grosso picco di ricerche influenzate dal difficile momento che il paese sta attraversando. Sono Covid e zona rossa due delle parole più ricercate negli ultimi giorni. La regione più interessata è stata la Campania, con un picco del 600% di ricerche. Inimpegnate il termine associato ad Arzano, dopo il focolaio nato in quella zona, ma molte anche le ricerche correlate al territorio, a Napoli e al governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, fenomeno mediatico sui social dopo le singolari dirette del venerdì e le apparizioni nei programmi televisivi. Con l'avvicinarsi delle feste natalizie, lockdown e Natale diventano di diritto due delle parole chiave più ricercate su Google. La prospettiva fa sentire i suoi effetti anche in rete. Gli italiani confermano ancora una volta il desiderio di contribuire per mettere alle spalle l'emergenza sanitaria. Anche tanta preoccupazione tra la gente, infatti parole o frasi molto ricercate sono state sintomi covid, mal di gola, tosse o perdita dell'olfatto. Intanto uno studio americano ha presentato un'importante novità. Google potrà predire nuovi focolai anticipandoli anche di 16 giorni rispetto alla loro segnalazione. Gli esperti della Mayo Clinic di Rochester hanno affermato abbiamo scoperto di essere in grado di trovare fattori predittivi di nuovi focolai sulla base di parole chiave usate nelle ricerche Google dagli utenti della rete. Potrà quindi la tecnologia salvarci dal covid? Grazie a tutti per la cortese e attenzione. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare una mail all'indirizzo redazione chiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340-6561-484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani per una nuova edizione aggiornata del nostro telegiornale. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.